Ciao a tutti, siamo qua con Rocco, Roberto e Marco, il 100% di No Seduction, che suoneranno fra mezz'ora, credo. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Buonasera. Come siete, pronti? Prontissimi, alla grande. Come siete in tour in questo momento voi? Sì, siamo via di casa, quindi... Non troppo distanti. Siamo da qui vicino, comunque. Ho visto che ultimamente vi siete gettati un po' più sull'elettronica. Hai visto giusto. Come vedete, come vi state muovendo in questo tour? State uscendo con molte cose... Io non vi vedo da tanto, mi ricordo di voi degli ultimi anni che eravate molto chitarrosi. Ultimamente ho visto che vi siete buttati più sull'elettronica. Come state virando in questa direzione? Ma diciamo che è stato un po' il prodotto degli ultimi due anni di sperimentazioni, così, in sala prove. Lo siete sempre stato in gruppo sperimentale. Io mi ricordo che già cinque anni fa aveva dato un pezzo rap. Sì, sì, è vero. È tutto vero. Ha dato un po' il filone nuovo. Sì, il filone elettronico è nato un po' da quel pezzo rap che penso sia copyrighted. Assolutamente. Era una sorta di Beastie Boys, era una cosa mai vista nei concerti dell'Underground Veneto, insomma. Eh sì, è una roba sicuramente un po' strana, appunto perché da un set di basso chitarra a batteria a un certo punto abbandonavamo tutti gli strumenti per diventare quasi dei MC. Poi da lì, da quella base elettronica di quel pezzo, da altre che sono nate, abbiamo iniziato ad aggiungere elettronica sempre di più, fino all'ultimo disco, 99, che abbiamo messo fuori da poco, che è, insomma, l'elettronica è piuttosto presente, insomma. Com'è che decidete di mettere tutto online gratuitamente? È una scelta non troppo comune. Voi ne fate un vanto, insomma. Ma è una cosa che abbiamo sempre fatto. Eh, come mai? Non è tanto comune, cioè chi va in cerca dell'etichetta per prodursi, per vendere i dischi a 15 euro. In realtà mettere tutto online così è una scelta piuttosto coraggiosa. Come vi ponete in questa cosa? Beh, diciamo che è una scelta politica, sicuramente, nel senso che fin da subito abbiamo pensato alla rete come al mezzo principale con cui far circolare non solo la musica, ovviamente, ma anche le idee. Di conseguenza l'autoproduzione è stata per noi un così modo anche di crescere e di... non solo suonando, ma sperimentando un po' tutto, registrandosi, provando a promuoversi e mettendo tutto liberamente, insomma, scaricabile, sempre stata, insomma, un fai da te. Un fai da te. Al cento per cento. Due punto zero. Questa sera farete cose dell'ultimo disco, prevalentemente, o comunque rivedremo ad esempio quel pezzo di cui parlavamo prima? Ma in realtà sì, la scaletta è tutta incentrata sul disco nuovo. Insomma, abbiamo lavorato parecchio su questi pezzi, quindi siamo felici poi di portarli dal vivo, soprattutto su un palco come quello dello Sherwood Festival, che è un palco importantissimo e molto bello, per cui, insomma, spingiamo appunto l'ultimo disco, 99, che si può scaricare gratuitamente. Ovviamente, ricordiamolo. Avete anche un sito? No, il sito è scaduto, non abbiamo più soldi per pagarlo, quindi... Link su link si arriva. Però c'è friedagency.com, c'è friedagency.com, che è questa associazione neonata, più o meno, di promozione, anche di eventi musicali, eccetera, da quel portale lì si può scaricare il disco dei nostri action, poi ci siamo sui vari soundcloud, i vari social su tutti i network musicali, bandcamp, quelle cose lì. Scusa? Su bandcamp? No. Mi manca. Va di moda ultimamente. Cielo, cielo, manca. Bandcamp, manca. Vabbè, noi penso che... sì, penso che non abbiamo neanche molto tempo a disposizione, perché di qui a 20 minuti dovete andare sul palco. Eh già, eh già, quindi ci trasferiamo tutti di lato. Eh già, eh già. Backstage. Io vi auguro un bel concerto. Grazie mille. E mi raccomando. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.